Ciao ragazzi, guardate cosa ho qui, guardate quest'orsetta, è una nuova cucciola di Thea, vi ricordate Thea, la gatta dei nostri amici che aveva già fatto dei cuccioli? E ne ho fatti altri, lei è giocherina, ti piace Elissa? Sì Quanto è morbida La voglio No, è mia, è mia, mi dispiace, è tutta mia, guardalo che bella lei, già mi vuole bene Ma quanto è piccola Piccola ci sarai tu Guardate un po' che regalino ho preso per i gatti, una pizza La dividiamo tutti Vai, apri, apri È un tiragraffi Ma cos'è questo? È un tiragraffi, questo non lo so È erbagatta È proprio erbagatta ragazzi, condiamoci la pizza Ok, un po' qui un po' lì Vediamo se adesso gli piace di più Questa è Thea, è mamma Thea Ti piace questa pizza? Ragazzi, a me questa non sembra proprio una pizza Secondo me mi hanno fregato Anzi, fregato Ciao Qua ti puoi fare le unghiette Niente, è scappata Oh no, va via Vabbè, magari dopo torna Oh, vediamo un po' cosa dice Si sente l'odore dell'erbetta Secondo me così piccoli non hanno neanche le unghie per farsi Per farsele Vabbè Alissa, corri dietro al gatto Ma questa è giocherina? No Questa è un strike, vedi? Non è una Ah, giusto, è vero Come si chiama lei? Penny Ecco Penny Ciao Penny Hanno un mese e mezzo questi gattini Sono ultra piccoli Ti piacciono? Sì Bene Alissa, mamma gatta Maggie Oh Maggie Guarda che battufola Maggie Simpson E chi mi sta prendendo in braccio? Mettimi giù Mettimi giù Lo prendiamo un altro gatto? Questo Ehm, non dovresti chiedere la nostra opinione magari? Sì, lo so che siamo irresistibili Ehi Ehi Dove mi sta portando questa? Ragazzi Ragazzi Mi ha preso Mi sta portando via Aiuto Vediamo Ok Bellissima Quante ne ordiniamo di queste pizze, Alissa? 33 mila Cosa dite? Non sono da mangiare io Al massimo mangiare di baci Ciao Ciao Scusa ma sono impegnata Sto cercando di capire se questa foglia si mangia E questo dito si mangia? Guarda Ma fanno la lotta Ecco qua Mi nascondo dietro le piante Mi mimetizzo Non mi vede nessuno Poi mi acquatto E come un predatore Zack Attacco Ancora con quel dito Ma non hai paura di me? Guarda che ti sbrano Guardami quanto sono pericolosa Adesso sono anche armata Giochi con la nerf? Ma cosa dici umana? Non sto giocando Mi serve per ricaricare il mio fucile Ma perché non hanno paura di me? Mi piace questa cosa Mi piace Bella la pizza al gatto Anche Daniel se la sta coccolando Sì ok però adesso basta Io me ne vado Ciao È grande quanto la tua scarpa Alissa Già A differenza sua però io non puzzo E sì avevo detto che me ne andavo Ma forse resto a prendermi Proprio le ultime coccole Beh intanto che guardate quanto sono carina Vi dirò alcune curiosità sui gatti La prima è che abbiamo il super udito Ci sentiamo 5 volte più degli esseri umani Perciò attenti ai rumori forti La seconda è che sentiamo gli odori con la bocca Con una ghiandolina sotto il palato E quella più strana è che noi mi aggoliamo Per comunicare solo con gli esseri umani Non con gli altri gatti Ma non ci sarà troppa dolcezza in questo video Non vi verrà il diabete State attenti Guardatelo a piccole dosi Piccole 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 dosi Ti mangio Ti mangio Topolino vieni qui Vieni qui che ti ho preso Ve l'avevo detto che ero una tipa pericolosa io Ah certo che noi gatti abbiamo proprio una vita perfetta Riceviamo coccole in continuazione senza nemmeno il bisogno di chiederlo Dormiamo quanto ci pare Possiamo odiare chi vogliamo E in più quando ingrassiamo diventiamo più belli La cosa più morbida del mondo La sta lavando Che brava mamma È l'ora del bagnetto Esatto È l'ora del bagnetto Prima di dormire bisogna sempre lavarsi E voi umani lo fate E va bene ti do un bacetto Ma non ti ci abituare troppo ok Eh Alissa questi gattini sono bellissimi E stiamo parlando piano perché Stanno dormendo Guardateli Oh Guardate che dolcezza E qui c'è la mamma che li sta controllando La mamma li tiene d'occhio Eh Thea Sei stata bravissima Hai fatto Hai fatto delle bambine bellissime Lo sai Sei stata brava Sei una brava mamma Thea Adesso li lasciamo dormire Ora li lasciamo dormire Questo video dolcioloso gattinoso finisce qui A noi è venuta tanta voglia di gattini Però per il momento Questi sono già prenotati Perciò non li possiamo prendere E allora noi vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Ciao Miau Ciao 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 Ciao